Dalla strumentazione a disposizione del nostro esperto meteo Giovanni De Palma cerchiamo di capire che cosa accadrà da domani sulla nostra regione, in particolare sulla costa adriatica. Giovanni, le immagini sono già abbastanza inequivocabili? Sì, esattamente, perché questa mappa riassume già la quantità di precipitazioni nevose previste sulla nostra penisola e come si può evincere appunto analizzando questa situazione, il medio adriatico dalle Marche fin verso il Salento saranno interessati da precipitazioni a prevente carattere nevoso ma a partire dalla serata odierna e ancor più nelle giornate di giovedì e venerdì a causa dell'arrivo di masse d'aria gelida di origine artica che raggiungeranno proprio il centro sud adriatico, il versante adriatico, quindi la nostra regione risulterà una delle maggiori esposte appunto a questo tipo di circolazione con le precipitazioni nevose più copiose rispetto alle restanti zone. Che concentrazione dobbiamo attenderci? Abbiamo tutti in mente quello che è accaduto nel 2017, ma ecco, come concentrazione nevosa, cosa c'è da attenderci in questi due giorni? Sicuramente avremo accumuli rilevanti soprattutto sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico ma la neve non mancherà nemmeno sul lungo la fascia costiera dove sono previsti accumuli, meno rilevanti ovviamente, ma ci saranno. Comunque mi preme sottolineare il fatto che non si tratta di precipitazioni nevose come accaduto nel 2017 sia per intensità ma anche per qualità della neve perché avremo nevicate decisamente con aria più secca, aria artica, aria più secca che desfavorirà nevicate ovviamente, diciamo così, più leggere, meno pesanti. Quando avremo un miglioramento? Il miglioramento lo avremo soprattutto a partire dalla giornata di sabato, in particolar modo dal pomeriggio sera di sabato in quanto la perturbazione e l'aria fredda si sposterà ulteriormente verso le estreme regioni meridionali abbandonando la nostra penisola, tuttavia le temperature continueranno a risultare ancora piuttosto basse con valori ben al di sotto delle medie stagionali. La neve non interesserà soltanto le zone montuose, non sarà confinata solo alle zone montuose ma riguarderà un po' tutto il territorio regionale, sia il versante orientale, sia la fascia costiera ma anche l'Aquilano, anche la zona di Sulmona sarà interessata da copiose nevicate. Ecco, un po' meno forse nella Marsica le nevicate ma il freddo sarà davvero pungente.